perché come si dice in questi casi dalla padella alla brace sugli alberi presto gridò gandalf e corsero verso gli alberi sul limitare della radura puntando a quelli che avessero rami abbastanza bassi o fossero abbastanza sottili da poterci si arrampicare li trovarono più in fretta possibile come potete ben immaginare e salirono quanto più in alto gli consentisse la robustezza dei rami avreste riso a distanza di sicurezza se avesse visto i nani seduti sugli alberi con la barba a pensoroni come vecchi gentiluomini rincitrolliti che giocassero a fare i bambini fidi e chili erano in cima a un larice dori nori ori oin e gloin stavano più comodi su un grampino dai rami sporgenti a intervalli regolari come i raggi di una ruota bifur bo fur bombur retorin stavano sopra un altro dualin e balina si erano arrampicati su una vete alto ed esile con pochi rami e cercavano dove sedersi nel verde delle fronde più alte gandalf che era ben più alto degli altri aveva trovato un albero su cui essi non potevano arrampicarsi un largo pino che stava proprio all'estremo limite della radura egli era ben nascosto tra le fronde ma si potevano vedere i suoi occhi brillare alla luce della luna quando faceva capolino e bilbo bilbo non poteva salire su nessun albero e correva da un tronco all'altro come un coniglio che ha smarrito la tana e inseguito da un cane ti sei di nuovo lasciato indietro lo scassinatore disse nori a dori guardando in giù non posso mica passare la vita a portarmi gli scassinatori in spalla disse dori o giù per le gallerie su per gli alberi cosa credi che sia un facchino se non facciamo qualcosa lo mangeranno disse torino poiché ormai gli ululati risuonavano tutto intorno a loro sempre più vicini dori chiamò poiché dori era quello più in basso e quindi più accessibile sbrigati e da una mano al signor beckins dori era proprio un tipo a modo nonostante tutto il suo brontolare il povero bilbo non riuscì a raggiungere la sua mano neanche quando gli è scese sul ramo più basso così dori scese addirittura dall'albero e si fece salire bilbo sulle spalle proprio in quel momento i lupi arrivarono di corsa nella radura ululando tutto a un fatto ci furono centinaia di occhi intenti a fissarli eppure dori non abbandonò bilbo aspettò che non si fu arrampicato sui rami e poi saltò sui rami lui stesso appena in tempo i denti di lupo si chiusero per afferrare il suo mantello mentre egli volteggiava su e quasi lo presero in un minuto c'era un intero branco attorno all'albero che ululava e cercava di saltare su per il tronco con gli occhi di brace e la lingua di fuori ma nemmeno i mannari selvaggi così erano infatti chiamati i lupi malvaggi sul confine delle terre selvagge possono salire sugli alberi per un po furono in salvo per fortuna faceva caldo e non tirava vento gli alberi non sono mai molto comodi per starci seduti al freddo e al vento con tutto intorno innumerevoli lupi che aspettano sotto di voi possono diventare posti decisamente spiacevoli quella radura delimitata dagli alberi era evidentemente un luogo di raduno dei lupi continuarono ad arrivarne sempre di più lasciarono alcune guardie ai piedi dell'albero su cui stavano dori e bilbo e andarono ad annusare intorno finché non trovarono tutti gli alberi su cui c'era qualcuno anche lì misero delle guardie e tutti gli altri parevano centinaia e centinaia andarono a sedersi in circolo nella radura e al centro del circolo c'era un grosso lupo grigio parlava agli altri nella spaventosa lingua dei mannari gandalf la capiva bilbo no ma gli sembrava terribile pensava che tutto quello che veniva detto riguardasse cose crudeli e malvagie come infatti era di tanto in tanto i mannari rispondevano al loro capo grigio tutti insieme e il loro spaventoso clamore faceva quasi cadere lo hobbit dal suo pino vi dirò quello che udì gandalf anche se bilbo non lo capì i mannari e gli orchi si aiutavano spesso a vicenda nelle loro gesta malvagie di solito gli orchi non si avventuravano molto lontano dalle montagne a meno che non vengano stanati e cerchino nuove case o vadano in guerra cosa che sono lieto di dire non si verifica da molto tempo ma in questi giorni ogni tanto facevano delle scorrerie soprattutto per procurarsi cibo o schiavi che lavorassero per loro talvolta cavalcavano i mannari come gli uomini fanno con i cavalli a quel che sembrava era previsto un attacco di orchi proprio quella notte i mannari erano venuti a incontrare gli orchi e gli orchi erano in ritardo i motivi erano senza dubbio la morte del grande orco e lo scompiglio causato dai nani da bilbo e dallo stregone ai quali probabilmente stavano ancora dando la caccia nonostante i pericoli di quelle terre uomini intrepidi provenienti dal sud si erano spinti fin là abbattendo alberi e costruendo dimore in cui vivere in mezzo ai boschi più belli nelle vallate e lungo le sponde del fiume ce ne erano molti ed erano coraggiosi e ben armati e nemmeno i mannari usavano attaccarli se erano in molti o in pieno giorno ma ora avevano progettato con l'aiuto degli orchi di calare nottetempo su qualcuno dei villaggi più vicini alle montagne se il loro piano si fosse svolto come previsto l'indomani lì non sarebbe rimasto vivo nessuno sarebbero stati uccisi tutti tranne quei pochi che gli orchi avrebbero sottratto ai mannari e portato via come prigionieri nelle loro caverne era terribile ascoltare quello che dicevano non solo pensando ai coraggiosi boscaioli alle loro moglie e i loro figli ma anche per il pericolo che ora minacciava Gandalf e i suoi amici i mannari erano furiosi e perplessi per averli trovati lì proprio nel luogo di raduno pensavano che fossero amici dei boscaioli venuti a spiarli e che avrebbero divulgato i loro piani giù nelle valli gli orchi e i lupi avrebbero dovuto così sostenere una battaglia terribile invece di catturare prigionieri e divorare gente sorpresa nel sonno i mannari quindi non avevano alcuna intenzione di andarsene e lasciar scappare quelli che stavano sugli alberi non prima del mattino in ogni modo e ben prima di allora dissero gli orchi soldati sarebbero scesi dalle montagne e gli orchi sono capaci tanto di salire sugli alberi quanto di abbatterli potete ben capire perché Gandalf ascoltando i loro ringhi e i loro ululati cominciasse a spaventarsi terribilmente anche se era uno stregone avendo la netta sensazione di trovarsi in un posto che era tutto fuorché sicuro ma non aveva nemmeno l'intenzione di lasciar fare ai lupi il comodo loro anche se non poteva far molto bloccato com'era su un albero alto con i lupi attorno lì in basso raccolse delle grosse pigne dai rami del suo albero ne incendiò una con una vivida fiamma blu e la scagliò giù similante in mezzo al circolo dei lupi ne colpì uno sul dorso e immediatamente il suo ispido pelo prese fuoco e il lupo si mise a saltare qua e là ululando orribilmente poi ne tirò un'altra e un'altra ancora una volta di una fiamma blu un'altra di una rossa e un'altra ancora di una verde scoppiavano al suolo in mezzo al cerchio e ricadevano in scintille colorate e fumo una particolarmente grossa colpì sul muso il capo dei lupi che fece un balzo di tre metri e poi in preda all'ira e al terrore corse follemente intorno al cerchio addirittura mordendo e addentando gli altri lupi i nani e bilbo gridavano e incitavano la collera dei lupi era terribile a vedersi e il tumulto che fecero risuonava per tutta la foresta da sempre i lupi hanno paura del fuoco ma quello era un fuoco particolarmente orribile e prodigioso se anche solo una scintilla arrivava a colpirne la pelliccia vi si attaccava e vi scavava una ferita bruciante e a meno che i lupi non si rotolassero in fretta per terra erano presto divorati dalle fiamme in brevissimo tempo per tutta la radura c'erano lupi che si rotolavano per scuotersi le scintille dalla schiena mentre quelli già in fiamme correvano intorno ululando e incendiandone altri finché i loro stessi compagni non li mettevano in fuga ed essi si dileguavano giù per la discesa gridando e latrando in cerca di acqua cos'è tutto questo chiasso nella foresta disse il signore delle aquile appollaiato nero nel chiarore lunare sulla vetta di un solitario pinnacolo di roccia al confine orientale delle montagne sento voci di lupi gli orchi stanno facendo danni nei boschi si librò in aria maestoso e vigile e immediatamente due delle sue guardie balzarono su dalle rocce vicine per seguirlo volteggiarono in cielo e guardarono giù verso il cerchio dei mannari una macchiolina lontana sotto di loro ma le aquile hanno occhi acuti e possono vedere cose piccole a grande distanza